Immagine di Enrico Cuffaro, onda vibratoria. Punto F, attraverso Francesca R, a cura di VB, domanda È vero che il fenomeno medianico nella sua globalità si affievolisce? Guida, no, si sta trasformando. Prende la forma necessaria all'evoluzione vibratoria a cui si accosta. L'insegnamento dell'ultimo cerchio, quello più lontano, non potrà mai essere paritario a quello dei cerchi più vicini al nostro. Noi parliamo di insegnamento per la nuova razza, che già c'è, non è nuova in senso assoluto. Ma questa nuova razza ha una capacità vibratoria che è completamente riversa dalla vecchia razza, che è ancora la maggioranza e quindi ha bisogno di una suscettibilità diversa di insegnamento. La capacità vibratoria destinata a rovesciare l'evoluzione attuale non può essere paritaria a quella della razza precedente, che aveva bisogno di tantissime forme medianiche di diverso tipo, di moltissime manifestazioni fisiche. La vostra parte finale della razza evolutiva ha bisogno di comprendere, deve cercare di avere tutte le emozioni possibili per avvicinarsi a quella che è la realtà. La nuova razza ha bisogno di un'onda vibratoria che l'avvicini alla percettibilità dell'onda vibratoria dell'amore. Quindi l'insegnamento trasformerà il suo manifestarsi in ciò che è la vibrazione d'amore. La nuova razza ha bisogno di un'onda vibratoria dell'amore. La nuova razza ha bisogno di un'onda vibratoria dell'amore.